Voglia di riscatto e fame di risultati. Passa da qui il rilancio del Catania. Ne sono convinti Lulli, Lunzelle Russo, tre dei nuovi volti della Rosa a disposizione di Pancaro che stamattina si sono presentati in sala stampa accanto al DS Marcello Pitino. Emozionatissimo Giuseppe Russo che dopo 14 anni passati lontano da Catania corone il sogno di giocare con la squadra della sua città. E' una cosa bellissima, solo se hai la fortuna di viverla puoi descriverla. Per me è un'opportunità, è la cosa che ho sempre sognato di fare e penso che sia arrivato anche al momento giusto. C'è da ricucire questo rapporto con la tifoseria? Sì, la tifoseria ovviamente il tifoso in questo momento è ferito, è giù di morale, però come tutti sappiamo il tifoso catanese se riesci a fare un po' di partite importanti e cercare di fare un po' di punti io penso che la gente allo Stati verrà. Entusiasta di vestire la maglia rossa azzurra anche Leonardo Nunzella. Catania è una piazza importante all'ira della categoria, forse è una delle piazze più belle in cui un giocatore vorrebbe giocare. Ripeto, la categoria è relativa, il sogno di un giocatore è quello là, la piazza importante, la piazza calda, il pubblico, la gente, l'entusiasmo, quindi sono molto contento di essere qua. Cerca invece e conferme Luca Lulli che dopo aver vinto un campionato a Teramo riparte col Catania per mettersi alle spalle alcuni problemi della passata stagione. Per una piazza del genere si può essere soltanto esaltati e stimolati a far bene, soprattutto per questa piazza che merita tanto e poi come nel mio caso in particolare per me dopo che ho avuto qualche problema l'anno scorso, quindi sono esaltati e stimolati al punto giusto. Domenica si parte ma sulla Lega Pro incombe il ricorso del Seregno. Perché è vero che noi sappiamo già rispetto ad altri che giorno 6 non giochiamo, mentre gli altri dovrebbero giocare, però può succedere anche che domani sera bloccano tutto e quindi si riapre la giostra. In casa Catania c'è grande soddisfazione per l'esito del mercato estivo. La Rosa, anche se di qualità, ha confermato Pitino necessita ancora di alcuni innesti. La proroga ad operare sul mercato in tal senso è una vera manna dal cielo. Grazie a tutti.